L'ennesimo progetto, l'ennesima meritoria iniziativa del CSI Centro Sportivo Italiano Comitato Provinciale di Chieti, la riscoperta dei valori dello sport nelle piazze e nei luoghi aggregativi dei territori. Si chiama infatti Tutti Giù per Piazze, il presidente del CSI di Chieti, Mimmo Puracchio. Svegliamone i contenuti. Nando è un progetto nel PNRR, quindi sostanzialmente è un progetto che viene fatto per riportare l'attenzione soprattutto dei giovani. È importante che i ragazzi tornino a giocare sulle piazze per riscoprire anche il rapporto che hanno fra di loro, soprattutto con il gioco. È un progetto importante della Regione Abruzzo e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. È un progetto che coinvolgerà 20-22 comuni della provincia di Chieti. È un progetto che interesserà soprattutto anche le aree montane, anche quelle aree dove sostanzialmente i ragazzini sono pochi, dove le classi sono state accorpate e dove non c'è un progetto di attività sportiva. Il progetto avrà un momento centrale durante tutto il mese di maggio, giugno e luglio, per quanto riguarda anche l'incontro con i genitori all'interno, tanto degli oratori quanto delle scuole. A settembre, praticamente staremo fermi solo il mese di agosto, ma a settembre ripartiremo con un'attività importante a Chieti, che coinvolgerà i ragazzi di tutta la provincia, dove a Piazza San Giustino abbiamo intenzione di, con l'accordo con il Comune di Chieti, di installare un campo polivalente, pallacanestro, pallavolo, calcetto, pallatamburello e pallacanestro. E quindi con questo campo intendiamo invitare tutti i ragazzi a venire a provare, venire a divertirsi. Intorno intorno avremo 12 gazebi di quelli grandi dedicati, tematici, in cui sostanzialmente dalla cultura alla formazione, corsi arbitri, corsi allenatori, corsi volontari anche nel CSI, avremo la possibilità di incontrare tanti giovani. Diciamo che torna in auge, se vogliamo, puracchio, il concetto della palestra della strada, che prima era una cosa normale. Quando ero bambino io andavo in mezzo alla strada, come faceva lo stesso presidente del CSI di Chieti, a giocare e a divertirsi. Palestra della strada che permetteva al bambino di ieri anche di forgiare il carattere, il temperamento. Ma già nel passato decennio questa crisi c'era già in atto e quindi già i ragazzi venivano presi dalla strada e portati nelle palestre, nelle scuole calcio, in aree dedicate, però fuori dalla famiglia e fuori dall'educatore di strada, in altre parole, con la figura di riferimento importante. Con il Covid le cose sono peggiorate. Quindi questo progetto, dopo Covid, porta proprio ad andare a riscoprire specificamente questa forma di attività sportiva. Poi i ragazzi vengono ovviamente invitati nelle palestre, ovviamente invitati sui campi di calcio, ma è un secondo passaggio perché uno dei criteri fondamentali, a mio parere, è la formazione degli educatori. E questa è una cosa importante, quella degli educatori, perché i ragazzi oggi stanno pochissimo in famiglia. Al mattino a scuola, e grazie a Dio che c'è, ma poi il pomeriggio molte volte sono in mano ad allenatori improvvisati, educatori improvvisati, e quando va bene sono 4, 5, 6 ore che i bambini non stanno ancora a casa. Quando tornano i compiti per la scuola saltano perché sono stanchi, e quindi dalle 8, dalle 20, dalle 21 in poi hanno i loro telefonini, hanno i loro strumenti e quindi di formazione non si può più parlare. Si chiusono in se stessi. Certo. Noi stiamo facendo questo grosso lavoro in diocesi Chietivasto, ma anche la diocesi di Langiano-Urtona ha aderito a questo nostro progetto. Quello di formare all'interno degli oratori, dare spazio agli oratori, e quindi riportare negli oratori i ragazzi per una sana formazione. Pensiamo solo a una cosa, che i più grandi atleti, vedevo l'altra sera una trasmissione in televisione in cui ripercorrevano la vita di Maldini, sia Cesare padre sia il figlio, entrambi usciti dagli oratori, entrambi venuti fuori da realtà oratoriali importanti, però che hanno poi proseguito in maniera eccellente la loro carriera nella società sportiva, in quel caso nel Milan.